Il sedimento che vedete in questo Falcon è stato raccolto da imbarcazioni che, seguendo le coordinate geografiche prestabilite nel piano di campionamento, si portano nel punto esatto per prelevare il campione. Il sedimento, a seconda del tipo di fondale e delle profondità richieste, viene prelevato con strumenti specifici, come la benna dotata di due valve o il box scorer, entrambi per la raccolta di strati superficiali da 0 ad un massimo di 30 centimetri, o con carotieri per il recupero di materiali profondi anche 2-3 metri. Analizzare il sedimento, sia dal punto di vista chimico che biologico, fornisce informazioni sulla qualità e sulla salute dell'ecosistema marino. La contaminazione dei sedimenti provoca infatti un deterioramento della qualità delle acque, con effetti negativi sugli organismi che vivono a contatto con esso umana, attraverso il trasferimento e l'accumulo di contaminanti lungo la catena alimentare.